La stimolazione magnetica transcranica, nel giargo medico TMS, è una tecnica non invasiva approvata dalla Food and Drug Administration statunitense e dall'Unione Europea per il trattamento di alcune tra le più diffuse patologie psichiatriche e neurologiche. Induce un campo elettromagnetico per mezzo di un coil di stimolazione e si avvale di un navigatore che consente di stimolare in modo selettivo precise aree della corteccia cerebrale. Casa di cura Le Betulle si è dotata di uno strumento di ultima generazione, Magstin Rapid 2, e ha voluto creare un centro che ne valorizzasse le prestazioni, anche in stretta associazione con altre terapie classiche come la psicofarmacologia e la psicoterapia. La stimolazione magnetica transcranica, detta giornalmente come TMS, è una tecnologia che utilizza le onde elettromagnetiche per stimolare alcune aree cerebrali. Per una nota legge della fisica, nota come legge di Biosavar, dove noi applichiamo un campo magnetico, si crea perpendicolare un campo elettrico, per cui la TMS utilizza un coil che viene applicato allo scalpo in alcune aree definite del cervello, ben note per il loro funzionamento, e ne stimola il funzionamento. Non utilizza assolutamente terapia radiante, è una tecnologia sicura, ripetibile e sicuramente apporta un notevole beneficio a chi ne viene sottoposto. La TMS è una terapia che può essere utilizzata in quasi per molte malattie neurodegenerative del sistema nervoso centrale e in alcune malattie della sfera psichiatrica, per esempio i disturbi cognitivi, cioè i disturbi della memoria o dell'espressione, alcuni sintomi della malattia di Parkinson, soprattutto se è utilizzata in contemporaneità con la fisioterapia, nei disturbi che vengono riassunti nella sindrome ossessiva, cioè il cosiddetto craving, la dipendenza o l'assunzione smodata di sostanze che possono andare dalle sostanze stupefacenti fino a sostanze più di utilizzo giornaliero, quale può essere l'alcol, il fumo e alcuni disordini alimentari. Sulla sfera psichiatrica è indicata per le sindrome depressive, la depressione maggiore la depressione bipolare in certe situazioni e nella dipendenza dal gioco, la ludomania. Un'altra indicazione può essere il trattamento sintomatico del dolore neuropatico, cioè del dolore che viene percepito per un danno del sistema nervoso centrale, del sistema nervoso periferico come in situazione iatrogene, cioè legate a terapie mediche o chirurgiche o a traumatismi. I pazienti che decidono di intraprendere il percorso vengono pretestati prima del trattamento con una batteria di test neuropsicologici studiata ad hoc per il tipo di disturbo, dove comunque viene valutato appunto in tempo zero lo stato sia della situazione cognitiva sia lo stato generale della psicopatologia. Sono poi test che danno comunque un dato oggettivo quindi pretrattamento che viene poi ripetuto nel follow up per vedere appunto l'esito del percorso intrapreso. Vengono controllate appunto tutto lo stato generale a livello appunto cognitivo e neuropsicologico e viene anche monitorato quotidianamente a livello clinico. Dopo i test neuropsicologici e quando il paziente quindi ha accettato questo tipo di trattamento deve essere eseguito una risonanza magnetica dell'encefalo che può permetterci di escludere patologie che sono incompatibili con questo trattamento e che viene utilizzata anche per la cosiddetta neuronavigazione cioè per cogliere esattamente le aree da stimolare con la TMS. In alcuni casi viene fatta anche una PET che ci dice la situazione del metabolismo cerebrale e questo è estremamente importante. Poi ci sono alcuni altri elementi che possono escludere da questo trattamento la presenza di corpi metallici, la presenza di protesi intracraniche che potrebbero essere danneggiate da questo trattamento. Il paziente viene costantemente e quotidianamente monitorato da parte dei membri dell'equip prima dell'inizio del trattamento, durante il trattamento e alla fine dello stesso. In base ai risultati della letteratura internazionale e all'esperienza da noi ottenuta fino a questo momento è stato verificato che questo tipo di trattamento è totalmente sicuro, non invasivo e molto efficace. Casa di cura Le Betulle si propone di offrire un trattamento multidisciplinare che preveda di far seguire il paziente da diverse figure professionali quali psichiatra, psicologo, neuroradiologo e neurochirurgo. Questo comporta che il trattamento risulti fortemente personalizzato e possa prevedere variazioni nell'utilizzo dello strumento anche quotidiane, seppure all'interno di protocolli internazionali validati. Grazie a tutti.